Musica Dal giardino antistante il museo al campo abierto, titolo della mostra di Sheila Hicks, ospite di Bass Museum. A Miami, a parte Art Basel, la proposta di arte moderna è concentrata in pochi musei. Uno di questi è Bass e qui c'è la mostra di Sheila Hicks, molto interessante il suo studio sull'utilizzo di trame, tessuti e lana. E qui è l'area dove ci sono le opere più monumentali di Sheila Hicks. Realizzata nel 2017, l'opera si intitola Scalata al di là dei campi cromatici, un'intera parete di colore. L'artista, nata nel 1934 ad Hastings, nella Nebraska, mette in mostra in questa esposizione opere prodotte negli ultimi 60 anni, puntualizzando alcune questioni, quali il paesaggio, le costruzioni e anche l'ambiente. Intitolato labirinto della comunicazione, anche Sheila, probabilmente piuttosto scettica sui risultati della comunicazione. Questo quadro monocromatico, andando più vicino, si scopre che è veramente uno studio sul lavoro a trama, fatto anche a telaio. Questa opera ricorda vagamente l'opera provocatrice di Pistoletto. Qui però ci sono soltanto pezzi di tessuto non lavorato e soltanto dipinto. Questa è un'acquisizione permanente del Bass Museum ed è un'opera di Paola Pivi. Come vedete è realizzata completamente da file di gigliaia di berline. All'ingresso di questo museo una parete fatta di benvenuto, scritto in tutte le lingue del mondo, un modo originale per raccogliere i visitatori, che purtroppo sono pochi.